Non è una questione solo di rivalza, è che, voglio dire, cos'è una famiglia? Io ho sempre pensato che famiglia è un nucleo di persone che si sostengono, si proteggono, si danno affetto reciproco, per altre invece la famiglia è solamente una sorta di macchina per generare figli. Allora, evidentemente io e Gustav non potremmo generare figli e neanche abbiamo mai pensato all'adozione, non è una cosa a cui abbiamo mai pensato. Però se facciamo un discorso di diritti, come cittadini che pagano le tasse, allora ti dico sì, voglio avere dei diritti, questo sì. Si fa tutta una retorica intorno al tema famiglia, cos'è una famiglia, cioè sembrava che la famiglia fosse solo uomo-donna con figli, cioè io mi sono chiesto, tutte le donne che hanno educato i loro figli senza un padre, non sono una famiglia? Cioè è diventata un'esclusiva. Il principio naturale per cui un uomo e una donna possono procreare e mandare avanti la società, diciamo nell'evoluzione della specie da questo punto di vista, due persone che stanno insieme. Queste sono due persone fertili che creano bambini, se non è fertile, è sterile, allora non è più una famiglia. La domanda non la dovete rivolgere a me, di un di lei che ne pensi. Io l'ho chiamato unione solidale perché... Unione solidale non è la famiglia però, fa distinzione. È un'unione solidale, cioè che nasce da una, la prima chiamata affezio, una motivazione che ognuno ha con una gradazione che arriva dal sentimento di amore, anche a quello di una convivenza serena e tranquilla a seconda dell'età, stare insieme per stare meglio. se uno ha mezzi da... e quindi attraverso un contratto, un atto di volontà bilaterale rivolto a costituire un rapporto che abbia nella stabilità e nel sentimento reciproco la motivazione, io ho visto due persone e lui ha voluto precisare anche di sesso diverso. No, hai fatto bene, ma io ritengo che le persone siano... Hai voluto precisare perché...